Metrice Virgilio, ennesimo lo diciamo appello alla donazione, emergenza sangue anche quest'estate? Allora, l'emergenza in estate c'è sempre. Io sono qui oggi per ricordare ai nostri donatori che l'unità di raccolta resterà chiusa solo il 15 e il 16, proprio per la festività di Ferragosto. Però poi già dal 17, il 18 e il 19 saremo aperti, quindi anche domenica 19, sono attivi ancora i progetti di incentivazione alla donazione estiva e quindi invito tutti ad approfittare di queste giornate per fare la donazione, per dare una mano, perché ricordo il sangue è una di quelle sostanze che non è possibile sintetizzare artificialmente e quindi solo se ci sono delle persone di buona volontà che vengono a donare lo si ha a disposizione. E quindi è importantissimo, a maggior ragione in estate, appunto in cui c'è più bisogno e un minor afflusso di donatori, dare il proprio contributo donando. I progetti relativi alla musica, la musica nel sangue con l'incentivazione col biglietto del concerto Nannini è ancora attivo, c'è a disposizione ancora un pacchetto di biglietti, quindi chi volesse può approfittarne. E poi comunque ci sono anche gli altri progetti relativi alla salute alimentare e alla salute legata al mare, quindi invitiamo tutti a venire. C'è un calo rispetto al numero dei donatori, un calo che comunque si registra durante anche tutto l'anno, rispetto anche ad una fascia che viene sempre più a mancare, che è quella dei giovani che per eccellenza dovrebbero godere di ottima salute. Sì, purtroppo dobbiamo registrare questo calo nelle donazioni dei ragazzi, legato soprattutto a degli stili di vita che non sono compatibili con la donazione. Quindi per noi tutti è un problema il fatto di non registrare nuove donazioni tra i ragazzi, perché questo in prospettiva ci creerà comunque un danno. Però grazie alla campagna Dona e Porto un Amico abbiamo avuto tante nuove donazioni in una fascia di età un po' più matura, il che nell'immediato ci dà una grossa mano d'aiuto. Speriamo che i ragazzi imparino a capire che tenere degli stili di vita sani serve più a loro e alla loro salute che agli altri. Però potrebbero anche essere solidali con il prossimo facendo una donazione ogni tanto. Intanto li invito, rinnoviamo. Vi invito tutti a venire a donare, c'è ancora tempo per fare sia il prelievo di donità che la donazione. Ci darete una grossa mano in questo periodo di vera crisi.